Ha messo tutto per tutto, alla fine ha rischiato anche di prendere il terzo gol, così giocando, non è quello il problema. Siamo passati in vantaggio e dopo abbiamo preso un rigore che secondo me non c'era. C'era un fallo su Sottili in quella azione lì che poi l'arbitro non ha fermato il gioco. Loro hanno proseguito e abbiamo preso un rigore che a mio avviso non c'era. Siamo dati uno a uno spogliatoio, nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla da poter passare in vantaggio, anche loro. La partita era in equilibrio, il pareggio era il risultato più giusto, è venuto fuori quel rigore e gli episodi hanno deciso la partita. Forse il rimpianto è non aver provato a fare qualcosa di più, magari la sensazione è che più Lascoli volesse vincerla che non li pescara nel secondo tempo. Noi abbiamo avuto anche noi le nostre occasioni, purtroppo noi li abbiamo finalizzati, abbiamo fatto tanti errori in uscita e tanti errori tecnici che ci hanno consentito loro di prendere coraggio. Siamo andati anche in un infragente di difficoltà, però la partita era in equilibrio, mancava sei minuti. C'è stato questo episodio che abbiamo perso la partita. Tra le note positive io direi che la catena di sinistra oggi nel 4-3-3, soprattutto nel primo tempo, mi è piaciuta molto. Tra l'altro dal lancio di Delgrosso in verticale è nato il rigore di Sottil, quello che doveva essere fatto un po' più spesso. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, a mio avviso, abbiamo concesso pochissimo loro. La linea saliva molto, accorciava molto gli spazi, siamo stati corti. Quello po' che poi nel secondo tempo mi ha fatto un po' meno. Noi dobbiamo sempre essere alti con la linea perché così facendo riusciamo ad andare a pressare gli avversari e accorciare gli spazi. Quando non lo fai abbiamo qualche problema. Su Brugman ha provato questa mattina solo precauzione o proprio non ce la faceva? No, ho parlato col medico, con lui. C'era il rischio che si stirasse. Il medico mi ha detto che non era a disposizione. Niente, non abbiamo potuto farlo dalla partita. Chiedo se ha parlato magari col Presidente, con Giorgio Repetto. No, no, adesso qui si è commentato la partita con loro perché non sono venuto in sala stampa, solo questo. Non torno all'intervista di Giorgio. Non li ho visti. Tutto qua, grazie.